In questa mattina voi avete un segno particolare, lo scambio degli anelli, quello scambio in cui il marito tra la prima volta benedisce la moglie e la moglie benedice il marito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello che stiamo celebrando in questo momento e che tutte le persone sposate lo hanno già fatto significa immergerci sempre di più nell'amore di Dio perché il nostro amore, questo amore viene da Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi questo amore perché cosa c'è? Non solo per rinascere una seconda volta ma per avere la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.